Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso legato ad alcuni film horror che mi ha particolarmente incuriosita. È l'estate del 1980 e questa è una stagione davvero infuocata in America. Un'andata di caldo scombussola il paese, ma il caldo non è l'unica cosa in quell'estate a scombussolare la gente. Infatti proprio durante quell'estate esce il film horror venerdì 13 ed il pubblico ne rimane sconvolto per settimane. Venerdì 13 è un film horror splatter e si contraddistingue per delle scene davvero molto violente, riuscendo così a conquistare un vastissimo pubblico. Nella nostra storia però si svolge in una piccola comunità, siamo a Wiley in Texas, una normale comunità senza nessuna attrattiva particolare. Ci sono delle casette a schiera, una chiesa, dei parchi, ma nulla di più. Come spesso accade in provincia? A Wiley si conoscono tutti. E come ogni provincia dell'epoca anche Wiley è in fase di trasformazione. Il boom della tecnologia all'inizio degli anni 80 riguarda anche il Texas. Infatti vi si trasferiscono molti ingegneri, che una ditta di nome Texas Instruments assume in massa. Questa è un'azienda statunitense fondata nel 1930 con sede a Dallas. Rappresenta una delle principali aziende multinazionali produttrici di dispositivi semiconduttori, nonché di tecnologia informatica di genere. È per questo motivo che i protagonisti della nostra storia, Alan e Betty Gore, si trasferiscono a Wiley nel 1976. Alan è un tecnico di computer, un informatico molto intelligente. Sa fare bene il suo lavoro, inoltre al tempo. Gli informatici in circolazione sono davvero pochi. E se Alan è un esperto di informatica, Betty, sua moglie, è una donna molto sensibile e premurosa. Ama prendersi cura dei suoi affetti, ha un bel sorriso. Riesce a mettere le persone immediatamente a loro agio. Betty fa la maestra e insegna in una scuola elementare e ama follemente il suo lavoro. Insomma, come vi ho detto, Betty è una donna premurosa che ama davvero aiutare il prossimo. Ma Alan e Betty come si sono conosciuti? I due si sono conosciuti nella loro città natale, in Kansas, alla fine degli anni 60. Per l'esattezza si conoscono all'università, in quanto Betty lavora alla caffetteria del centro studentesco. Ed è proprio lì che Alan e Betty si incontrano. Alan però è un po' diverso dalle altre persone di provincia, perché se le altre persone mantengono un profilo basso, Alan, no. Per niente. Se la tira un po', si mette in mostra, fa il sostenuto. Nonostante questo, i genitori di Betty benediscono la loro unione nel 1970. E sei anni dopo, quando arrivano a Wiley, hanno già messo su famiglia. Infatti, la prima figlia della coppia, Alyssa, nasce nell'estate del 1974. Sono dei genitori effettuosi, Gore, molto attenti alla loro prima figlia. E in effetti, Betty pare sia una donna totalmente realizzata. Questa è la classica famiglia della provincia americana, con i loro figli, la loro bella casetta, le domeniche in chiesa. Insomma, queste sono abitudini tipiche della provincia. Arriva il 1978 e Betty partorisce la sua seconda figlia, Bethany. Ed effettivamente è proprio a seguito di questa gravidanza che iniziano ad emergere i primi problemi. Betty manifesta malessere. È triste, si sente sola. E all'inizio degli anni Ottanta, questo malessere non viene riconosciuto come una depressione postpartum. Betty, però, soffre proprio di questo. La sua condizione, ovviamente, crea forti tensioni tra lei e suo marito Alan. Come se non bastasse quest'ultimo, è spesso in viaggio per lavoro. E Betty è a sei ore di macchina dalla sua famiglia. Quindi non ha un appoggio presente fisicamente accanto a sé, purtroppo. Per quanto la famiglia tenti di starle vicino, essere così lontani non aiuta affatto Betty. Però c'è un posto in cui Betty Gore si sente a casa, ed è la chiesa. Betty frequenta la chiesa metodista di Lucas. È un elemento importantissimo nella sua vita. Infatti Betty e Alan sono nel coro della chiesa metodista. E fanno anche parte della squadra di pallavolo della chiesa. Ed è proprio lì, in chiesa, che Betty conosce e fa amicizia con una donna, ossia Candy Montgomery. Candy sposa un uomo di nome Pat Montgomery nei primi anni 70. L'uomo è uno dei giovani ingegneri più bravi della Texas Instruments. Candy e Pat si trasferiscono a Wiley, in campagna nel 1977. Hanno già un figlio e una figlia. Però il loro matrimonio ben presto si trasforma in routine. Nonostante Pat dia a Candy tutto ciò che desidera, comprese delle discrete entrate economiche. Grazie al suo lavoro alla Texas Instruments. Candy Montgomery è una donna minuta, bionda, con una risata contagiosa. Inoltre ha un ruolo preminente in chiesa. È sempre pronta a organizzare feste o attività di volontariato. Candy inoltre è anche una donna espansiva e socievole. Insomma, se si vuole sapere cosa accade in città, la donna giusta da chiamare è proprio lei. Perché Candy sa tutto di tutti. Betty però non è uguale a Candy, è fatta in modo diverso. È silenziosa, resta in disparte, difficilmente parla. Insomma, è una donna abbastanza riservata. Pur avendo due personalità opposte, Betty e Candy fanno amicizia. Le due hanno una buona intesa e si supportano a vicenda. In effetti a Betty serve molto supporto. In quanto nell'ottobre del 1979 il rapporto con suo marito è tutt'altro che idilliaco. E per Betty la soluzione arriva dalla televisione. Infatti in TV si parla spesso di questi weekend sposi, chiamati anche seminari per coppie. All'epoca sono molto in voga e le coppie che decidono di partecipare a questi eventi rinnovano le loro promesse di amore e impegno. Betty in effetti si rende conto che il suo matrimonio ha qualche problema da un bel po' di tempo. Quindi vedendo questi servizi alla televisione, inizia a pensare che quella potrebbe essere la strada giusta per lei e suo marito. In quanto stanno attraversando un periodo di crisi davvero abbastanza intenso. Betty era convinta di aver creato la classica famiglia americana di provincia perfetta. E invece quel tipo si è ritrovata immersa in un matrimonio che non la soddisfa. È stata male subito dopo la nascita della sua seconda figlia, anche se non sa bene il perché. Inoltre Betty si rende conto di essere stata parecchio brusca, spesso e volentieri, con Alan. Betty si sente quasi in colpa, quindi prova a proporre questa soluzione a suo marito. Gli chiede quindi se vuole partecipare ad uno di quei seminari per le coppie. Alan accetta. In effetti pare che questo seminario alla fine sia un successo. Entrambi credono di aver fatto progressi significativi nel loro matrimonio. E partecipare a quel seminario è stato un ennesimo passo avanti. Reducita a quell'esperienza, Betty organizza un viaggio in Europa. E quella dovrebbe essere una seconda luna di miele, visto che hanno rinnovato le loro promesse. Ma arriva venerdì 13 giugno del 1980. Manca una settimana per la partenza in Europa di Betty e Alan. Quel giorno infatti Betty lascia la sua figlia più grande, Alissa, da Candy Montgomery. Perché vuole iniziare già a fare i bagagli. Ma nell'entusiasmo per il viaggio subentra lo stress. Perché Alan deve partire per un viaggio di lavoro proprio quel pomeriggio stesso. E Betty odia stare a casa da sola. In questo caso però è anche inquieta. E per questa inquietudine c'è una motivazione molto molto importante. Betty ha un ritardo. Teme di essere nuovamente incinta. E questa cosa la agita. Anzi, la terrorizza. Specialmente con l'ultima esperienza che ha avuto dopo l'ultima gravidanza. Betty è stata molto male, ma purtroppo non è riuscita a capire quale problema avesse. E non vuole tornare in quel limbo di insicurezza. Ma soprattutto vivrebbe malissimo una terza gravidanza. Sa per certo Betty che per lei quei nuovi mesi sarebbero infernali. In quanto sarebbe perennemente agitata e in ansia. Alan viene immediatamente a scoprire del suo ritardo. Quindi si trattiene a casa un po' di più per rassicurarla. Insomma le dice di non preoccuparsi, che non è detto che sia incinta. Di stare tranquilla. E le promette che la chiamerà appena arriverà a destinazione. Alla fine sembra quasi che Betty stia meglio. Si affaccia alla porta con sua figlia Bethany in braccio di appena 11 mesi. Salutando Alan sorridendo. Dieci ore dopo Alan atterra Minneapolis. Sono le 18.30 del 13 giugno. E la prima cosa che fa Alan arrivato in hotel. In effetti è chiamare a casa per provare a sentire Betty. Ma nessuno risponde. Però Betty non è quel tipo di donna da uscire di casa per i fatti propri. Senza avvisare nessuno. No, assolutamente. Di norma esce solo per andare a lavoro. Ed è per questo che Alan si preoccupa. Alan però sa che Alissa, sua figlia più grande, è a casa di Candy Montgomery. Quindi la chiama per sapere se per caso quel giorno ha visto Betty. Candy risponde tranquillamente dicendo di aver visto Betty proprio quella stessa mattina. Dopo il seminario sulla Bibbia, infatti, Candy è passata a casa sua per prendere un costume e portare Alissa, la figlia di Betty, e sua figlia in piscina. Dopodiché Betty e Candy si sono anche accordate per far dormire Alissa a casa di Candy. Betty in quel momento è tranquilla, sta sistemando il bucato e nel frattempo sta guardando un programma alla televisione. Candy dice ad Alan quindi che Betty le ha dato il costume ed ha permesso ad Alissa di dormire da lei. Poi si sono salutate. Alan a questo punto chiede a Candy di parlare con sua figlia, Alissa. E le chiede se per caso la mamma ha accennato del fatto che quella sera sarebbe uscita. Alissa però non ne sa niente, non lo sa, non si ricorda. Quindi Alan si raccomanda con lei di essere gentile visto che è a casa di ospiti. E chiude la chiamata. Alan a questo punto cerca di non farsi ancora prendere dal panico, quindi cena con dei colleghi. Arrivano le 10, prova nuovamente a chiamare a casa. E di nuovo Betty non risponde. E a questo punto Alan si preoccupa davvero parecchio. Chiama di nuovo Candy e la donna prova a rassicurarlo e a consolarlo. Alan chiede a Candy, davvero non sai dove potrebbe essere? Voi due siete amiche. Candy però non sa proprio dire dove si è Betty, quindi spara un'ipotesi un po' a caso. E anche abbastanza banale a dirla tutta. Infatti Candy dice ad Alan, magari è uscita con un'amica? Ma Alan risponde in modo serio, impossibile, non sarebbe mai uscita così tardi. La spaventa. Candy a questo punto però taglia corto dicendo, Beh Alan, non mi sembra così assurdo che sia uscita e se fosse uscita non ci trovo nulla di male. Alan capisce che non solo Candy non sa nulla, ma si sta pure innervosendo, quindi chiude la chiamata con lei e contatta alcuni suoi vicini di casa. Alan chiama Richard Parker, un suo vicino, e inizialmente gli chiede di controllare se l'auto di Betty è nel garage. L'uomo quindi va a controllare, poi torna al telefono e dice, Sì Alan, c'è solo una macchina lì e il garage è aperto, le luci sono accese. Alan pensa che sia davvero molto molto strana questa cosa. Però non chiede nulla a Richard, riattacca il telefono. Una volta solo nella sua camera d'hotel però l'uomo non riesce assolutamente a darsi pace. Sta male e continua a chiedersi perché Betty non l'abbia richiamato. Ma soprattutto perché nessuno sa niente? Alla fine Alan decide di tirare sulla cornetta e di richiamare nuovamente Richard, il suo vicino, e gli dice queste parole. Richard, sono davvero preoccupato per Betty. Puoi tornare a controllare tutte le porte ed il garage per cortesia? Forse hai dovuto andare via di corsa per un'emergenza? Forse nostra figlia sta male? Puoi controllare per favore? Richard accetta, fa il giro di tutto il recinto, arriva fino al retro della casa e nel vicolo lungo il violetto dei Gore. Richard, avvicinandosi di più, nota che in garage non c'è un'auto, ma ce ne sono due di auto. L'uomo quindi entra in garage e si dirige verso il ripostiglio e prova ad aprirlo. Ma non ci riesce, la porta è chiusa. Però può vedere la luce sotto la porta. Richard sente che in quella casa c'è qualcosa che non va. Ci sono troppe luci accese, il garage è aperto e quel silenzio assordante lo turba e non poco. Richard quindi torna di nuovo a casa sua, al telefono, e dice ad Alan Qualcosa non va, non so esattamente cosa ci sia che non vada, ma entrambe le auto sono lì, in garage. Le luci in casa sembrano accese, ma nessuno risponde. Alan a questo punto non ha mezze misure e dice Richard voglio che tu vada a casa mia e trovi il modo di entrare come puoi. Richard rimane in silenzio per un momento. Non sembra troppo convinto, poi però risponde Ok Alan, credo di poterlo fare. Alan quindi gli lascia il numero dell'hotel in cui alloggia, Richard se lo segna e conclude la chiamata. Richard a questo punto fa un respiro profondo, ma continua ad essere poco convinto. E Alan se ne è reso conto. Ecco perché decide di chiamare un altro suo vicino di casa, Jerry McMahan, un analista informatico del Texas che vive dall'altra parte del vicolo rispetto ai Gor. Appena Jerry risponde alla chiamata, Alan dice Jerry qualcosa in casa mia proprio non va. Ho provato a chiamare Betty, ma nessuno risponde. Le luci sono accese, ma le porte sono chiuse. Prenderesti una torcia per andare a controllare? Magari riesci a scoprire qualcosa. Jerry tranquillamente dice ad Alan Cioè sì vado, torno tra un minuto. Jerry così indossa una tuta, si mette le scarpe e percorre il vialetto dietro casa dei Gor con una torcia. Poi arriva davanti alla casa, entra in garage e inizia a bussare rumorosamente alla porta del ripostiglio senza ottenere risposta. Jerry per amica si arrende, entra nel cortile sul retro e prova a forzare una porta di vetro scorrevole che però non si muove neanche di un millimetro. Continua così il giro della casa, sbirciando dalle finestre. Arriva davanti alla porta d'entrata, suona il campanello, ma nessuno risponde. In quella casa sembra che non ci sia alcun segno di vita. Jerry, nonostante ciò, torna al telefono e dice ad Alan Le luci sono accese, certo, ma non sta accadendo niente di strano. Alan risponde Jerry c'è qualcosa di decisamente sbagliato in tutto ciò. Jerry ribatte Ma Alan, dai, magari è appena uscita con degli amici. Alan ribatte secco No, non esce così con gli amici, senza avvisare, lasciando tutto acceso. Lo so per certo, quindi entri in quella casa e guarda cosa c'è che non va. Forza le finestre, le porte, qualunque cosa serva, ma vai a controllare, per favore. Jerry quindi dice ad Alan che l'avrebbe fatto. Ma nel frattempo spiega anche a sua moglie la situazione, la quale giustamente si spaventa e insiste perché Jerry non vada in quella casa da solo. Così Jerry chiama Lester Gayler, un barbiere che vive accanto ai Gor sempre dall'altro lato della strada. Due minuti dopo Jerry e Lester si incontrano dietro il piccolo della casa dei Gor. Quando Richard esce da casa sua e si trova davanti Jerry e Lester si stupisce. Guarda quindi vicini e chiede ma che diavolo sta succedendo? Jerry risponde In realtà non lo so, Alan Gor mi ha appena chiamato per dirmi di entrare in casa sua. È così che i tre uomini risalgono il viaretto dei Gor e riprovano a sforzare la porta di vetro scorrevole, senza alcun risultato. Di nuovo, chiaramente sono tutti fortemente a disagio perché se dentro quella casa c'è qualcosa che non va non sono sicuri proprio di volerlo vedere. Visto e considerato che la porta scorrevole a vetro non si muove i tre uomini provano a forzare altre finestre senza riuscirci. Poi ecco che Jerry tocca con l'indice la porta d'entrata e si apre, quella porta non è mai stata chiusa. I tre uomini sono tutti lì, sulla veranda. Hanno davanti a loro la porta d'entrata aperta ma nessuno dei tre ancora osa mettere piede in quella casa. Richard si limita a sporgersi un minimo al di là dell'ingresso per urlare il nome di Betty ma anche in questo caso non riceve risposta. Alla fine Lester si fa coraggio ed è il primo ad entrare in casa, seguito dagli altri due. E appena entrano, Lester e Richard iniziano a controllare tutte le stanze della casa. La prima stanza che aprono si rivela essere quella di una bambina ed è tutto a posto, non c'è nulla di strano. Quindi procedono lungo il corridoio fino alla stanza successiva. Jerry però nel frattempo si guarda intorno e nota che subito alla sua sinistra c'è un bagno. Quella è l'unica porta aperta tutte le altre porte della casa sono chiuse. E Jerry già in quel bagno nota qualcosa che lo fa per abbrividire. Ci sono chiaramente delle macchie scure incrostate sulle piastrelle e sembra sangue quello. L'uomo però non si sofferma subito al bagno forse Jerry ha troppa paura ma in ogni caso raggiunge i suoi due vicini che aprono l'ennesima porta per controllare l'ennesima stanza. Poi ecco che di colpo si intorno al pianto di una bambina. È così che corrono in camera di Bethany e la trovano nella sua culla metà seduta e metà sdraiata con le gambe piegate sotto di lei. Il viso è macchiato e rosso i capelli sono arruffati e sporchi ha solo 11 mesi ed è rimasta in quella culla per molto tempo da sola non è stata nutrita, né lavata, né cambiata. Richard quindi prende la bambina, la culla e poi corre a casa per chiamare la polizia mentre Jerry e Lester continuano a perlustrare la casa entrano nella camera da letto più grande ma non trovano nulla quindi si dirigono verso soggiorno Jerry quindi si dirige verso la sala da pranzo e Lester invece va verso sinistra per controllare la cucina i due uomini camminano lentamente e mano a mano accendono tutte le luci delle varie stanze entrambi sono sempre più consapevoli che in quella casa c'è davvero qualcosa che non va hanno paura di quello che potrebbero trovare però in un certo senso quasi solo immaginano ormai è così che Lester dalla cucina sicuro va verso la porta del ripostiglio la apre guarda dentro e poi urla oh mio dio no non andare oltre e chiude velocemente la porta neanche Lester sa se quella frase l'ha esclamata riferendosi a Jerry a se stesso o a qualcuno che si trova dall'altra parte della porta però c'è una sicurezza perché Jerry si gira verso Lester e gli dice è morta l'uomo però non ha visto effettivamente il corpo di Betty Gore bensì una marea di sangue e gli basta e gli avanza non vuole andare oltre Lester quindi si è lontana dal ripostiglio mentre Jerry ci si avvicina apre la porta guarda dentro e poi la richiude a Jerry inizialmente sembra che Betty si sia sparata un colpo alla testa perché il suo viso è ricoperto di sangue il suo corpo è in un lago di sangue Lester quindi si dirige verso il telefono di casa che sta in cucina ma prima che possa alzare la cornetta il telefono squilla quello lo sanno e Alan che è preoccupatissimo e non sa cosa diavolo sia successo anche se forse ne è una mezza idea e ne è spaventato per un istante i vicini si bloccano davanti al telefono sanno che devono dargli una notizia terribile poi Jerry si fa coraggio e risponde a quella chiamata Alan chiede immediatamente cosa hai trovato? Jerry risponde con voce calma Alan niente di buono ma non preoccuparti la piccola sta bene Alan quindi chiede la bambina sta bene? Jerry ribatte sì sta bene Alan quindi fa quella domanda e chiede e Betty come sta? Jerry è in difficoltà e quindi si limita a dire mi dispiace Alan Alan quindi chiede ma cos'è successo? Jerry ribatte non lo so per certo Alan a questo punto gli chiede beh tu cosa pensi sia successo? Jerry risponde pare che le abbiano sparato o che l'abbia fatto da sola Alan quindi ribatte ma noi in casa mica abbiamo una pistola? Jerry a questo punto gli risponde Alan mi dispiace tanto vorrei trovare un altro modo per dirtelo e Alissa Alan sai dov'è? Alan rassicura l'amico dicendo sì tranquillo sta bene Alissa sta bene ed è al sicuro Jerry quindi conclude la chiamata dicendo vorrei poter dire qualcosa d'altro Alan resteremo qui e spiegheremo tutto alla polizia Alan ringrazia Jerry chiude la chiamata e si ritrova confuso disorientato non sa cosa diamine fare è sotto shock e l'unica persona che gli viene in mente di chiamare a primo impatto è di nuovo Candy Montgomery Alan dice a Candy che Betty non c'è più e Candy inizia a piangere e gli dice oh Alan ma cos'è successo Alan risponde sembra che li abbiano sparato i vicini l'hanno trovata senza vita Candy quindi con un fil di voce chiede e Bethany Alan però non ha neanche sentito la domanda di Candy si lascia andare e dice so che ultimamente ci sono state delle cose che l'hanno infastidita e so che era sconvolta perché aveva un ritardo di due settimane ma non avrei mai pensato che avrebbe Candy sta piangendo ormai e risponde ma Alan e io cosa posso fare? che ti posso dire? Alan fa un sospiro e risponde niente ma per favore tieni a lista per un po' e non dirle cosa è successo voglio dirglielo io è così che la conversazione tra i due si conclude Alan subito dopo chiama i genitori di Betty per dar loro la notizia che poi rapidamente si diffonde tra i parenti è mezzanotte quando l'investigatore Stephen Defibo arriva a casa dei Gore con la sua cinepresa a 35 mm a Wiley non si verificano crimini del genere quindi la polizia non ha neanche il classico nastro giallo per delimitare la scena del crimine quindi sono costretti ad attaccare dei fogli con lo scotch con su scritto vietato entrare l'investigatore è un veterano del dipartimento di polizia di Collin ed ha parecchia esperienza ma la verità è che né lui né l'esperto della scientifica Irving Stone sono pronti a vedere ciò che li attende nella stanza c'è sangue dappertutto sul frigorifero sulle pareti sul pavimento l'investigatore che oramai è vicino al corpo di Betty si rende conto che l'arma usata contro la donna non è una pistola infatti l'arma è ancora nella stanza dietro la lavatrice ed è un'ascia Betty ha ferito dappertutto fin sopra la nuca a tagli sulla fronte su un occhio sul volto all'altezza del gomito sul braccio sinistro è addirittura possibile vedere le ossa l'investigatore a questo punto inizia ad esaminare la scena sul sangue a terra trova delle impronte nel ripostiglio è presente un'impronta molto nitida di un pollice insanguinato la polizia continua per lustrare la casa e quando arriva il soggiorno nota che c'è un giornale sul piano della cucina quel giornale è aperto alla pagina della pubblicità del film Shining un altro film horror la polizia comunque continua a fare dei rilevamenti in bagno che portano a delle conclusioni ancora più agghiaccianti quando i detectivi infatti entrano in bagno controllano la doccia e si rendono conto che ci sono dei capelli nello scarico questo vuol dire che il colpevole si è introdotto in casa colpito Betty e poi si è pure fatto una doccia inoltre non mancano impronte di sangue sulle apiestrelle di tutto il bagno siamo in una piccola cittadina quindi raccapriccianti dettagli dell'omicidio si diffondono ben presto a macchia d'olio gli abitanti di Wiley sono sconvolti perché tutti si conoscono e quindi temono che il colpevole si possa nascondere proprio tra di loro il colpevole in effetti potrebbe essere una persona di Wiley pertanto gli inquietanti rimandi ai film horror del momento fanno davvero caponere la pelle l'assassino quindi si è ispirato a dei film tutti gli elementi di un horror splatter trasformati in atroce realtà e peraltro Betty non è stata uccisa in un giorno qualunque ma proprio di venerdì 13 esattamente come il titolo del film horror uscito da poco nelle sale le persone si chiedono chi possa essere stato un ladro? difficile in casa non manca niente ma come può una persona qualunque colpire un'altra persona in un modo così violento la posizione è certa qui non si tratta di un delitto casuale le autorità sono piuttosto convinte che si tratti di qualcuno che conosceva bene Betty intanto gli abitanti di Wiley continuano a porsi la stessa domanda chi ha colpito Betty Gore? secondo la polizia l'assassino si è effettivamente accanito sulla vittima e lascia usata per il crimine appartiene proprio alla famiglia Gore arriva il 14 giugno del 1980 il giorno dopo il delitto di Betty tutta la comunità è spaventata a morte sono tutti quanti sconvolti per ciò che è successo i vicini dei Gore si chiudono in casa doppia mandata le strade sono vuote le donne hanno paura di uscire quella mattina viene eseguita l'autopsia sul corpo di Betty e gli esiti sono raccapriccianti è stata colpita per 41 volte la famiglia di Betty prova a capire il perché di tutta questa efferratezza anche loro non sono convinti della premeditazione bensì ad un ladro occasionale che si è introdotto in casa male di investigatore Stephen Defibo trova qualcosa in quella casa che lo porta ad escludere categoricamente il furto infatti il detective riguardando le foto della scena del crimine vede chiaramente su una credenza 20 dollari lasciati lì in bella vista ovviamente nessun ladro si fa scappare 20 dollari che peraltro sono sotto il suo naso quindi la pista della rapina viene ben presto abbandonata quello non è stato un delitto casuale e le autorità pensano ad una ferita in particolare che è stata inferta alla vittima quella all'occhio il possibile movente potrebbe essere effettivamente la gelosia della serie se non hai occhi per me non le avrai per nessun altro ma è andata davvero così il colpevole per caso è il marito è mai partito per quel viaggio di lavoro oppure ha fatto Alan Gore il 14 giugno torna in Texas per affrontare la drammatica situazione Alan appena rientra in Texas viene convocato al distretto di polizia dove lo interrogano per circa un'ora e mezza le autorità gli chiedono nel dettaglio di descrivere i suoi spostamenti di venerdì 13 giugno Alan racconta all'autorità che è uscito di casa alle 8 e mezza ed è giunto in ufficio più o meno per le 9 è stato con i suoi colleghi per tutto il giorno per il pranzo per il trasferimento in aeroporto e per il volo a Minneapolis in pratica Alan Gore ha un alibi di ferro ma per gli investigatori c'è qualcosa che non va vedono che Alan risponde in modo freddo distaccato non fa trapelare alcune emozioni riguardo la morte di sua moglie e quando Alan poi torna a casa pulita a fondo da amici e parenti trovano ad attenderlo i parenti di Betty che sono altamente irritati dal suo atteggiamento quell'uomo non è addolorato non sembra un marito affranto anzi pare essere del tutto calmo sbriga le sue faccende quotidiane con estrema tranquillità Alan però alla polizia ha detto un'altra cosa una cosa importante ovvero Candy il giorno 13 si è recata da Betty di conseguenza le autorità aggiungono Candy Montgomery nella lista di persone da interrogare la polizia vuole ricostruire tutti i movimenti di Betty fino ad arrivare all'ultima persona che l'aveva vista e quella persona è proprio Candy Montgomery la donna si reca al distretto la domenica dopo la messa le autorità vogliono sapere dove e quando Candy ha parlato con Betty Gore ma non la stanno incolpando di nulla questa è solo una normale prassi investigativa niente di più Candy quindi deve aiutare il detective a ricostruire tutti i movimenti di Betty e in effetti oggi basta esaminare i tabulati telefonici ma all'epoca il detective Stephen Defibow deve affidarsi a ciò che dice Candy il detective quindi continua a fare a Candy delle domande nello specifico il detective chiede a Candy ah sì l'ha chiamata Alan e che ora era se lo ricorda cosa trasmettevano alla tv Candy inizialmente sembra quasi restì a rispondere poi però parla guarda il detective e gli dice vuole proprio sapere cosa stavo facendo quando Alan mi ha chiamato beh era a letto con mio marito il detective a questo punto alza le spalle e dice ok Candy niente di scandaloso poteva dircelo prima la verità però è che il detective Defibow continua a pensare a questa situazione il fatto di essere a letto con suo marito crea imbarazzo in Candy oppure ha qualcosa da nascondere comunque la sua versione coincide con quella di Alan e Candy dice alla polizia che quel giorno quel venerdì 13 non ha notato nulla di sospettoso in Betty la polizia si trova quindi al punto di partenza arriva il 18 giugno e c'è il funerale di Betty che si svolge proprio a Wiley quello è chiaramente un giorno triste però durante quel funerale vengono dette tantissime parole benevole verso Betty ai suoi parenti sembra che quella chiesa sia come una seconda famiglia per lei quel giorno però non ci sono solo le persone che partecipano al funerale di Betty per darle l'ultimo saluto perché al di là della strada c'è un investigatore che fotografa la folla che esce dalla chiesa in modo discreto senza farsi notare e la sua presenza è ben presto chiara in quanto il giudice di pace Buddy Newton dichiara che il colpevole secondo lui ha agito per vendetta personale e ipotizza che possa aver partecipato alla cerimonia funebre proprio per non destare sospetti insomma in casa non è stato rubato nulla non ci sono segni di effrazione quindi i sospetti si puntano su qualcuno che Betty conosceva e quel qualcuno potrebbe davvero nascondersi tra la gente in chiesa terminato il funerale gli amici tentano di dare tanto sostegno alla famiglia molti di loro cucinano dei piatti da portare a casa Gore la verità però è una l'ottimo cibo non lenisce i dolori dei parenti di Betty né dissolve la paura che ormai provano tutti gli abitanti di Wiley l'assassino potrebbe colpire ancora poi il telefono di casa suona e uno dei parenti di Betty risponde ciò che sente dall'altro capo della cornetta lo farà brividire perché una voce tagliente dice ho ucciso io Betty Gore questa è una telefonata anonima e se ci pensiamo è un classico dei film horror e allora forse davvero l'assassino vuole emulare quei film la famiglia quindi ben presto contata agli investigatori e spiega l'accaduto gli agenti quindi arrivano sul posto e chiedono a Ron il cugino di Betty di tenersi pronto a rispondere infatti se l'assassino dovesse richiamare Ron deve riuscire a tenerlo in linea per almeno 10 minuti permettendo quindi agli agenti di rintracciarlo non passa molto tempo il telefono squilla di nuovo Ron risponde e sente quella voce maschile che di nuovo ripete l'ho uccisa io Ron a questo punto con voce tremante dice ma come hai fatto dimmi come il tizio al telefono risponde l'ho fatto in una zona paludosa vicino al lago e già questa risposta risulta alquanto sospetta perché è evidente che Betty sia stata colpita in casa il tanto sangue trovato lo dimostra ampiamente ma Ron continua a parlare con lui e lo fa parlare a sua volta fino a quando le autorità non rintracciano quella telefonata le autopattuglie quindi escono a caccia dell'uomo lo trovano lo interrogano in modo alquanto pressante e poi alla fine i detective arrivano a una conclusione quell'uomo è stato da poco rilasciato da un ospedale psichiatrico quella in pratica si rivela una falsa pista la polizia quindi si ritrova di nuovo a dover ripartire da zero quindi convoca di nuovo Alan Gore per un altro interrogatorio e Alan in effetti in questo interrogatorio ha un atteggiamento alquanto evasivo così i detective iniziano a sospettare che stia nascondendo qualcosa l'interrogatorio dura due ore ma Alan non cambia la sua versione a questo punto la polizia di Wiley chiede ad Alan se è disposto a sottoporsi alla macchina della verità e quest'ultimo accetta ma prima di farlo dice ai detective di aver omesso alcune informazioni ma che informazioni ha omesso Alan? beh l'uomo ammette di aver avuto una relazione con Candy Montgomery l'amica della moglie Alan confessa che è iniziata in chiesa Candy si ricorda perfettamente quando è iniziato a pensare ad Alan è accaduto un pomeriggio di fine estate del 1978 insomma Candy e Alan sono nella stessa squadra di pallavolo e mentre stanno giocando si scontrano ovviamente nessuno nota nulla quello è solo un incidente un urto innocuo è passato inosservato a tutti i presenti nel campo ma per Candy quello scontro è stata una rivelazione ha potuto annusare il sudore di Alan e secondo Candy Alan profuma di buono insomma in un certo senso per Candy Alan ha un odore sexy Candy è una donna annoiata oramai con Pat la situazione è abbastanza tranquilla non sono più uniti come un tempo e insomma Candy vuole trovare qualcuno con cui fare le capriole a letto ed è a questo punto che inizia a pensare ad Alan Gore l'uomo è in un certo senso diverso dalla moglie è più estroverso parla di più è nel coro della chiesa mentre Betty purtroppo è nel bel mezzo di una depressione postpartum sta male è schiva a volte è acida spesso è brusca risponde male così Candy pensa sia il caso di avvicinarsi ad Alan per conoscerlo un po' e in effetti si rende ben presto conto che sono molto simili Alan è un uomo attivo in chiesa ama i bambini è parecchio estroverso la fa ridere ed è così che Alan e Candy iniziano a passare sempre più tempo insieme quando si incontrano in chiesa tutto quindi ha inizio in questo modo con dei piccoli gesti Alan si avvicina a Candy iniziano a chiacchierare e a scherzare e col tempo sembra che diventino sempre più complici infatti Alan arriva addirittura a fare a Candy di tanto in tanto l'occhiolino oppure restano a chiacchierare più a lungo del necessario nel parcheggio della chiesa mentre tutti gli altri a fine funzione salgono in macchina e se ne vanno insomma Alan e Candy si flirtano ma in modo sottile infatti Betty non si rende conto che Candy trova suo marito affascinante Candy però decide di fare la sua mossa e ad ottobre riesce a fermare Alan mentre sta tornando a casa da solo dopo le prove del coro della chiesa Candy taglia corto lo vede in macchina lo ferma gli chiede se possono parlare sale in macchina sul lato passeggero e dice ad Alan ho pensato molto a me e a te e mi infastidisce il fatto che non so se voglio che tu faccia il primo passo oppure no sono molto attratta da te e sono stanca di pensarci costantemente quindi volevo solo dirtelo Candy a stento guarda in faccia Alan si gira apre la portiera scende dalla sua macchina e se ne va attraversando il parcheggio della chiesa velocemente Alan invece nel frattempo rimane lì come un broccolo perché chiaramente non aveva capito nulla si sente alquanto ridicolo in un certo senso ma anche illusingato non era stupito della franchezza di Candy ha avuto modo di conoscerla nei mesi precedenti e sa bene che è solita dire esattamente quello che pensa sempre però Alan è perplesso un'altra donna è interessata a lui ci pensa un attimo e si ritrova ben presto sorpreso e contento che quella donna sia proprio Candy in quanto secondo lui è una delle donne più attraenti che frequenta la chiesa e sicuramente è la donna più divertente con cui passare il tempo dopo questa confessione Candy inizia in un certo senso a sedurre Alan che riesce ad evitarla più o meno per due mesi poi Candy inizia ad essere davvero davvero insistente non ammette proprio rifiuti ogni volta che si trovano in chiesa Candy trova il modo di appartarsi con Alan gli dice che il sentimento che prova per lui la turba perché insomma lo desidera davvero da morire e Alan alla fine cede è così che Alan e Candy hanno iniziato a vedersi in un motel chiamato Como Motel è vicino all'ufficio di Alan e i due si incontrano all'ora di pranzo ma che fanno Candy e Alan in motel chiaramente i due prima di tutto fanno cose ma non solo chiacchierano anche del più del meno delle loro frustrazioni dei loro matrimoni inoltre Candy è solita preparare il pranzo ogni volta che si incontrano è così che Alan si abitua in quel modo è davvero facile comodo poi però dopo circa un anno Alan decide di interrompere la relazione con Candy e questa scelta alla matura dopo aver partecipato con Betty al seminario delle coppie quindi Alan supera il test della macchina della verità ed ora la polizia per la morte di sua moglie ha un nuovo movente ma soprattutto una nuova sospettata ossia Candy Montgomery c'è gelosia passione rabbia vendetta a questo punto il movente è abbastanza chiaro e a seguito di questi sviluppi le autorità concentrano le indagini su Candy mentre dalle indagini condotte dalla scientifica si dovrebbe riuscire a scoprire il peso e l'altezza dell'assassino o dell'assassina è a questo punto che emerge un dato saliente perché proprio vicino alla gamba di Betty Gore sulla scena del crimine c'è un'orma un'impronta lasciata nel sangue e dall'impronta di un piede si può effettivamente risalire all'altezza di una persona e in questo caso gli esiti sono rivelatori perché l'impronta del piede è decisamente piccola così le autorità concludono che a colpire Betty deve essere stata una donna ma per arrestare qualcuno con un'accusa così importante sono necessarie delle prove così la polizia si concentra sull'impronta del pollice insanguinato trovato nel ripostiglio le autorità quindi convocano Candy per prenderle le impronte digitali e per sottoporla al test del poligrafo a questo punto Candy contatta al suo avvocato si fa prendere tranquillamente le impronte digitali ma è insicura riguardo alla macchina della verità a suo avvocato Candy dice tranquillamente che non ha nulla da nascondere vuole aiutare la polizia a trovare il colpevole ma vuole anche dei consigli proprio in merito alla macchina della verità c'è qualcosa che è preferibile non fare? l'avvocato a questo punto ferma Candy e il 19 giugno del 1980 comunica che la sua assistita non si sottoporrà al test del poligrafo però quello stesso giorno intorno alla mezzanotte il capo della scientifica della contea di Dallas trova un riscontro per l'impronta insanguinata lasciata nel ripostiglio di Betty quell'impronta corrisponde chiaramente a quella di Candy Montgomery il 26 giugno del 1980 Candy Montgomery viene arrestata in relazione al brutale omicidio di Betty Gore l'arresto di Candy lascia gli abitanti di Wiley sgomenti perché Candy è vista come una donna priva di qualsiasi ombra passano tre mesi quindi arriviamo più o meno a fine settembre quando il processo inizia e questo è l'evento più eclatante a cui la cittadina di Wiley abbia mai assistito la prima sorpresa arriva quando l'avvocato di Candy si rivolge per primo alla corte si alza in maniera solenne e dichiara ora vi raccontiamo la vera storia Candy Montgomery ha ucciso Betty Gore sì ma è stata legittima difesa tutti i presenti sono sbalorditi non riescono a credere che Candy invochi la legittima difesa è assurdo visto la modalità del delitto nei giorni successivi l'accusa chiama a testimoniare una serie di amici di Candy agenti di polizia ed esperti forensi ed il primo ad andare alla sbarra è Alan il vedovo di Betty Gore la vittima l'uomo risponde tranquillamente alle domande che gli vengono poste ammette la relazione con Candy ma sottolinea che i due l'avevano interrotta di comune accordo e aggiunge di non aver mai colto in Candy alcun segno di gelosia che potesse spiegare un delitto così afferato tuttavia le prove raccolte contro Candy sono schiaccianti le prove più solide dell'accusa infatti sono le impronte delle sue dita e dei suoi palmi che ha lasciato a casa Gore solo al quarto giorno di processo Candy siede al banco dei testimoni per raccontare ciò che tutti i cittadini di Wiley sono impazienti di conoscere la sua versione di cosa si è successo quell'orrenda mattinata di venerdì 13 giugno cosa dice Candy? Candy dice che quando vada Betty per prendere il costume di avagno di Alissa si trattiene qualche minuto da lei iniziano a chiacchierare del più e del meno fino a quando non si sa bene perché Betty di colpo cambia atteggiamento diventa violenta secondo Candy Betty è al corrente della sua storia con Alan e vuole fargliela pagare ecco perché Betty afferra l'ascia gridando contro Candy non l'avrei mai Candy risponde a Betty ma calmati io Alan non l'ho mai voluto e ovviamente questa affermazione irrita Betty ancora di più quindi secondo la versione di Candy Betty colpisce con l'ascia ma colpisce a vuoto urlando sempre non lo avrai mai così inizia una collotazione tutte e due stringono a questo punto tra le mani il bastone dell'ascia in quanto entrambe vogliono impossessarsene poi Candy viene colpita di striscio sulla testa con l'ascia ed inizia a urlare quindi Betty si mette le dita davanti alle labbra dicendole shhh vai silenzio è a questo punto che Candy per sua ammissione esplode prende dalle mani di Betty l'ascia e inizia a colpirla lo fa per 40 volte poi si dirige nel bagno degli ospiti e si fa una doccia infine esce da casa di Betty torna alla macchina ci sale mette in moto e torna a casa a leggere la Bibbia tutti in quell'aula di tribunale sono raggelati non si infliggono 40 colpi per legittima difesa è irreale Candy dopo aver colpito Betty peraltro ha lasciato a casa sua la bambina di Betty di 11 mesi per tornare a leggere la Bibbia ma se fosse stata legittima difesa Candy perché non avrebbe dovuto chiamare la polizia perché non ha chiamato i soccorsi il problema qui è che la difesa della donna ha tutte le risposte pronte infatti usano un metodo alquanto singolare per capire il perché del gesto di Candy ossia usano l'ipnosi l'avvocato di Candy porta la donna da uno psichiatra il quale la sottopone a ipnosi per riuscire a ricostruire la vera dinamica dei fatti Candy sotto ipnosi racconta tutto come se stesse guardando un film racconta ogni istante di quel giorno vissuto a casa di Betty ed è su questo racconto che viene impostata la sua difesa infatti dalla testimonianza dello psichiatra si apprende quale patologia misteriosa abbia indotto Candy a compiere quel gesto una reazione di dissociazione è come se la sua mente si fosse scissa in quel momento infatti durante la sessione di ipnosi emerge che Candy era stata colpita aveva urlato e Betty le aveva risposto con shhh secondo lo psichiatra quel gesto ha scatenato l'azione dissociativa che ha riportato Candy alla sua infanzia con l'ipnosi infatti Candy ha ricordato un qualcosa che le era accaduto quando era molto piccola ossia Candy purtroppo aveva un padre violento e una madre che la obbligava a non esprimere i suoi dolori e glielo diceva proprio con quel gesto shhh stai zitta Candy a lungo andare smette di nutrire l'ancore per suo padre ma per sua madre che assiste non prova mai ad intervenire è tutta un'altra storia secondo la difesa 25 anni di rabbia repressa contro sua madre è esplosa proprio con quel shhh detto da Betty questa ricostruzione dei fatti è ovviamente molto difficile da accettare per tutti i presenti che si chiedono ma che cosa diavolo si sono inventati non è che stanno un po' esagerando in ogni caso quella è anche un po' una ricostruzione poco verosimile e la famiglia di Betty Gore non crede ad una sola parola pronunciata da Candy il processo dura appena nove giorni e mercoledì 9 ottobre tutti attendono il verdetto a Candy viene riconosciuta la legittima difesa quindi viene dichiarata non colpevole la notizia fa immediatamente il giro di tutto il paese e la reazione generale è quella di totale incredulità la cittadina infatti non accoglie bene quel verdetto quindi Candy inizia a ricevere continuamente lettere minatorie da parte di persone parecchio contrariate Candy ormai non può più andare a fare la spesa non può proprio più uscire di casa senza che qualcuno la riconosca e la insulti allora invece bisogna ammetterlo volta velocemente pagina pensate che a distanza di tre mesi dal processo si risposa con un'altra donna questo ovviamente alimenta i sospetti della famiglia di Betty però quelli purtroppo sono rimasti e rimarranno sempre e solo dei sospetti Candy costrata dal clima di ostilità cambia città si trasferisce in Georgia cambia nome e cambia anche lavoro e in Georgia Candy prende l'abilitazione per fare la terapista di professione direi che questa è una cosa alquanto bizzarra il nuovo nome di Candy è Candace e lavora insieme alla figlia Jenny come terapista per adolescenti e adulti che soffrono di depressione bisogna ammetterlo però un classico dei film horror è lasciare il finale aperto per un sequel quindi l'assassino deve restare a piede libero anche in questo film horror tramutato in realtà il delitto di Betty non è un colpevole detto questo ragazzi io ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento conoscevate questo caso? io credo di sì perché è abbastanza famoso in ogni caso se vi va fatemi sapere quello che pensate di questo caso nei commenti qui sotto detto ciao ragazzi io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi ciao